Oculus Domini Saginat Ecum Nel reale esiste qualcosa di simbolico, ma nel simbolico non v'è niente di reale. Su questo concetto si forma quest'opera, ovvero l'estrusione del simbolo dalla realtà. La domanda è, quando la realtà diventa simbolo? Sicuramente quando ci impossessiamo di essa, quando ne riconosciamo la padronanza, la proprietà, ciò che è mio.